Il progetto, collegato al programma mondiale FAO sui sistemi agricoli, si chiama Gias Building Capacity, dove Gias sta per eredità dei sistemi agricoli globali e ha raccolto negli ultimi quattro anni in tutto il mondo varie esperienze di agricoltura tradizionale a bassa intensità energetica. Tra i modelli agricoli tradizionali più resistenti al cambiamento climatico c'è anche un esempio in Toscana, cioè i terrazzamenti in pietra a secco di Lamole nel Chianti, dove dal 2016 sono stati creati appunto terrazzamenti che hanno salvato le colline dall'abbandono, rendendole più resilienti alla nuova realtà del pianeta. Il terrazzamento, ha spiegato il professor Agnoletti, che coordina il progetto Gias, di fronte a piogge intense è in grado di ridurre la velocità dell'acqua e l'erosione, evitando frane e alluvioni. E nei territori pianeggianti, come ad esempio quelli recentemente colpiti dall'alluvione nel Fiorentino, anche lì l'agricoltura antica potrebbe essere d'aiuto, spiega Agnoletti. Le coltivazioni a porchi, ad esempio, in cui il campo è interrotto da cunette rialzate, è testimoniato anche da Benozzo Gozzoli nei suoi affreschi. In ogni caso, ricorda Agnoletti, la protezione del territorio a valle avviene a monte. La piana fiorentina è fortemente urbanizzata e una coltivazione simile non avrebbe impedito i danni di un evento così catastrofico come quello del 2 novembre, ma è un esempio di come anche l'agricoltura possa fare la sua parte. Ma perché questo non succede? Qual è l'ostacolo che impedisce alle buone idee di essere realizzate? L'agricoltura che potrebbe svolgere questo lavoro ha bisogno di stare in piedi economicamente. Quindi un terrazzamento si può ripristinare, diciamo, se la produzione che si fa su quel terrazzamento trova poi un prezzo di mercato che compensa l'agricoltura dello sforzo maggiore che lui fa per coltivare su pendenze molto elevate rispetto magari a chi fa viticoltura in pianura. Quindi è la politica che deve dare risposte? Esatto. Quest'anno nella politica agricola comunitaria sono stati inseriti dei finanziamenti per questo tipo di sistemi, ma è una piccola quantità che dà soprattutto un segno di quello verso cui si sta andando ma che non ha ancora preso quella, diciamo, importanza che ci dovremmo aspettare.